La Ilside di Bellona è stata un'azienda che per anni ha dettato legge nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti, ha lavorato per diversi comuni, ha aiutato il commissario di governo durante i periodi dell'emergenza. Improvvisamente l'azienda è caduta in disgrazia. 30 operai oggi sono senza lavoro e non hanno nemmeno ricevuto i trattamenti economici che spettano loro per legge. Ci illustra la triste storia della Ilside un ex dipendente. Salve, buongiorno. Vorrei semplicemente raccontarvi una storia che parte dalla vendita dell'Ilside. Dopo che è stata venduta l'Ilside, chi ha acquistato l'Ilside aveva semplicemente l'intenzione di fare una bonifica e non continuare con i lavori ordinari che già si sviluppavano per i comuni. Una bonifica che non è stata fatta? Perché qui a terra ci sono tonnellate di rifiuti di ogni tipo. Una bonifica che non è stata fatta, però quello che vede sono i rifiuti che sono stati bruciati all'interno dell'Ilside, perché a causa di una cattiva gestione dovuta al fatto che i rifiuti entravano e non uscivano. Quindi diciamo che anni fa questa azienda fu bruciata, fu bruciata perché è stato accertato che l'incendio fu doloso e i rifiuti combusti non sono stati mai smaltiti ma si trovano ancora qui sul piazzale. Ma non solo, ci sono anche altri rifiuti che dovevano stare nei container in appositi cassoni. Questi cassoni improvvisamente sono spariti dal piazzale, almeno 18 cassoni riferiscono appunto ex dipendenti che conoscono bene la situazione, sono spariti e i rifiuti sono stati scaricati qui sul cemento. Sì, confermo. Queste sono delle appropriazioni di materiali che non si sa chi li sta prelevando ancora perché siamo sotto fallimento, non so bene quale sia la formula giusta, però sappiamo che le attrezzature, non solo cassoni, presse, ragno, vibrovaglio, rompisacco e altre attrezzature scompaiono giorno per giorno e non sappiamo nemmeno chi entra, chi possa fare questo e perché lo faccia. C'è un liquidatore che dovrebbe garantire per queste cose, non sappiamo perché succede questo. Comunque quello che succedeva prima, dopo che avvenisse l'incendio, il problema è che l'Ilsit è stata, cosa che qualcuno si dimentica, l'Ilsit è un'azienda fortissima è stata venduta per 50 mila Euro, è stata comprata all'asta per 50 mila Euro. Esatto, unico partecipante. Lei pensi come fa un'azienda solo di queste capacità, con queste attrezzature ad essere venduta per 50 mila Euro? Quando aveva dei crediti di circa 2 milioni di Euro da riscuotere dagli enti e da altri privati. Ma qui ci sono anche soldi pubblici però, ci sono 7 milioni di Euro della Regione Campania? Anche sicuramente, presumo di sì, esistevano delle grosse attività che si svolgevano anche per conto degli enti e sono stati fatti degli investimenti anche grazie all'aiuto della Regione Campania, sicuramente è successo questo, però quello che voglio sottolineare è la gestione fatta in modo assolutamente errato, nel senso come si fa chi gestisce un'azienda a non chiedere quanto guadagna un'azienda, fa entrare i rifiuti e non li fa uscire, li gestisce in modo errato. Quindi l'incendio potrebbe essere nato dall'esigenza di liberarsi di rifiuti in eccesso e quindi risparmiare nello smaltimento di questi rifiuti. Dubito di questo, anche perché i rifiuti combusti una volta che si sono incendiati per smaltirli costa di più, ma il problema è arrivato anche dopo quando si è iniziato a gestire la frazione umida, si creava una puzza qui intorno in mane, ce lo raccontano tutte le persone qui intorno, ma era facile capirlo perché il rifiuto entrava e non usciva, non usciva perché non capiamo il motivo, noi non lo sappiamo, dicevano di non avere i soldi per farlo uscire il rifiuto e quindi restava qui a terra a marcire, non sappiamo il motivo, poi ci accorgiamo che tutto ad un tratto la società viene venduta per 50 mila Euro e dopo che noi siamo usciti, dopo che l'hanno venduta la società hanno fatto credito per i comuni e hanno ripreso quei 2 milioni di Euro che erano ancora da riscuotere, però nessuno si è mai interessato a riaprire l'azienda, non l'hanno mai riaperta e tra parentesi nessuno mai ci ha chiesto perché tutti questi rifiuti all'interno, di chi è la colpa, di chi è che faceva entrare questi rifiuti e non li bloccava, perché poi esistono delle leggi per cui ti obbligano ad avere una certa quantità di rifiuti a terra e non di più di quella quantità. Quali sono quei rifiuti? Depositati sotto la tettoia tra i due capannoni. Dove c'è quel braccio? Sì, al lato a fianco. E cosa contenevano? Che tipo di rifiuti? C'erano dei rifiuti liquidi, ci sono anche delle lastre di amianto, accumulatori, filtri pericolosi, tipologie che eravamo all'epoca autorizzati a gestire e che stavano lì in attesa di essere poi smaltiti. Sono ancora lì, a quanto pare. Anche l'officina? Vediamo un'officina aperta in balia di chiunque. Sì, doveva essere chiusa, invece aperta e dentro c'erano comunque delle attrezzature utili alla gestione dell'attività, vorremmo sapere se sono ancora lì o se sono state praticamente anche quelle riaprese da qualcuno che ha pensato bene di farne un altro uso. Ma qui ci sono stati e se ci sono stati quanti soldi pubblici investiti? Pubblici no, sono stati, semmai dovevano essere gestiti i soldi privati, pubblici no. La regione non ha stanziato tempo fa una grossa somma, si parla di 7 milioni di euro per aiutare la bonifica? Di questo impianto no, almeno non mi risulta. Qua non sono mai arrivati, questo è sicuro. La vendita, nell'ultima vendita, diciamo quella lì all'asta, che ha visto un'azienda essere acquistata per appena 50 mila euro? 50 mila e 100 euro per la precisione. Il 100 euro... Potrebbe esserci stato un accordo fra Furbacchiotti? Tutto lo fa pensare. Sembrerebbe che la persona che si è presentata per la vendita, l'acquisto, abbiamo motivo di pensare che avesse avuto già precedenti contatti con la proprietà dell'Aeside e che quindi già si sapeva che doveva essere rilevata da questo pseudo procuratore, diciamo, della società che è poi risultata acquirente di questa vendita. La società è stata acquistata da una fiduciaria, esattamente, e ciò già fa pensare che qualcosa di losco c'era. Non c'era una vera e propria società strutturata, intenzionata a riaprire l'attività. Quello che è seguito dopo si è verificato unicamente un'azione di recupero crediti, questi soldi poi, quelli che siamo riusciti a racimolare, sono stati praticamente distribuiti, diciamo, tra parcelle di avvocati, compensi ad amministratori e determinati fornitori. Qui c'è anche un altro problema. Esisteva un comitato civico cittadino qui a Bellona che protestava tantissimo per la presenza di questa azienda. Perché oggi non si occupa più di questo grave stato di inquinamento che si determina ogni giorno? Le persone, non sentendo più la puzza, non hanno più modo di lamentarsi perché la puzza non era gestibile facilmente. Sono stati felici indirettamente perché l'azienda, per loro, quando chiude un'azienda, è non sentire più puzza. Ma il problema rimane, no? Il problema rimane soprattutto per i rifiuti che sono depositati qui a terra e quello forse sarà il problema più grave. I rifiuti che non dovevano stare a contatto con l'acqua, dovevano stare protetti, invece sono sul piazzale. C'è un grave problema di inquinamento. Qui ogni volta che piove l'acqua piovana si deposita, finisce sul cemento, poi viene incanalata senza alcuna depurazione e finisce direttamente a fiume. Sì, perché una volta qui esiste ancora un imbianto di raccolta di acqua di prima pioggia, però ora non è funzionante perché dietro ai furti che ci sono stati di rame non c'è più corrente, quindi l'acqua piovana va direttamente a fiume, non viene più incanalata in questo imbianto di raccolta di acqua di prima pioggia. Poi faccio presente che sono stati scaricati rifiuti che prima erano contenuti nei cassoni coperti. Quanti cassoni? Più o meno, a vista d'occhio, secondo le nostre cose vengono circa 18 cassoni che sono stati scaricati a terra e a cielo aperto e c'erano anche rifiuti pericolosi. Sì, c'erano anche rifiuti pericolosi. Che adesso stanno qui a terra, all'intemperie. Sì, quello che posso dire è che questa era un'azienda che da che risolveva il problema ambientale, adesso diventando una scarica a cielo aperto. Quindi inquinante. Inquinante, ma molto inquinante, non poco, perché oltre ai rifiuti combusti, come ricevo, anche i rifiuti pericolosi che stanno qui versati a terra sul piazzale, emanano inquinamento sia dell'aria che delle acque.